Poche imprese, solo il 7,7% ritengono che la crisi terminerà nel 2014, ma per due su tre il governo Renzi riuscirà ad affrontare le priorità del paese, anche se non nei suoi primi 120 giorni emerge da un'indagine di Confcommercio. Insomma, più della metà delle imprese ha un elevato livello di fiducia nelle capacità di questo governo, ma solo una su quattro ritiene che resterà in carica fino alla fine della legislatura. E se per le imprese la riduzione della pressione fiscale, della burocrazia e del cunio fiscale restano i tre interventi prioritari, si registra una diffusa fiducia sulla realizzazione di alcune riforme, come il Jobs Act, la riforma del fisco, e quella della pubblica amministrazione.